La Formula 1 è sempre più movimentata, sempre più imprevedibile nel bene e nel male. Ragazzi bentornati sul nuovo episodio di Ephone Analysis, qui è il vostro Alas che vi parla, piacere di rivedervi. Siamo qui appunto per l'analisi del weekend di Spa-Francorchamps, in Belgio un weekend in cui se ne sono viste di tutti i colori. Ormai vediamo cose che non si sono viste in tutta la storia, in più di 70 anni di storia della Formula 1. In questo fine settimana il meteo l'ha fatta da padrone dall'inizio alla fine del weekend. Ma andiamo con ordine, siamo già partiti con questo weekend, il weekend che ha segnato la ripresa dopo la pausa estiva del campionato di Formula 1, con il cumulo di penalità per Bottas e per Stroll dopo il botto di Curva 1 in Ungheria. Un GP d'Ungheria, se volete seguire l'analisi del Gran Premio di Ungheria vi invito a cliccare ora nell'angolo in alto a destra. Un weekend di Ungheria che è stato assolutamente eccezionale, con la vittoria di Ephone davanti a Vettel che è stato poi nel post-gara squalificato perché il suo carburante non era abbastanza per i controlli da parte della FIA. Questo weekend non è stato assolutamente da meno, appunto per la presenza di un meteo assolutamente instabile. Già dalle prove libere si è vista una conferma delle gerarchie, visto che Mercedes e Red Bull si sono lottate per tutte le prove libere. Le prime posizioni hanno dimostrato di essere le macchine più performanti, soprattutto con la Red Bull che era molto molto veloce nel settore centrale e nel settore misto, grazie appunto alla sua forza telaistica. Un Bottas che era invece molto veloce in settore 1 e settore e 3 con un'ala molto più scarica, mentre Hamilton era molto più lento nei settori veloci in quanto stava usando un'ala più carica. Quindi si è vista una lotta soprattutto per quanto riguarda le strategie telaistiche aerodinamiche dei contendenti, che alcuni preferivano una velocità massima maggiore e quindi avere un carico aerodinamico minore, il che comportava naturalmente tempi peggiori nel settore misto e altri piloti hanno deciso per il contrario. Oltre a Red Bull e Mercedes si è vista una McLaren comunque molto forte in quanto la potenza del suo motore e la sua velocità di punta è molto molto elevata e anche Alpine, Aston Martin e l'Alfa Tauri soprattutto di Pierre Gasly molto molto in palla. Andiamo alle qualifiche, qualifiche che si sono svolte interamente sotto la pioggia, siamo partiti subito sotto la pioggia e nel Q1, bisogna dirlo, abbiamo confermato quelle che sono state le gerarchie solite con l'eliminazione di Kimi Raikkonen con l'Alfa Romeo, delle due asse eccetera. Dal Q2, Q2 già che ha presentato le prime sorprese in quanto non è passato nel Q3, Fernando Alonso che comunque durante le prove libere aveva dimostrato un ottimo passo e invece non è riuscito a confermarlo poi durante il Q2 ed è stato appunto eliminato in P11, forse anche più della P11 perché bisogna comunque contare le penalità, comunque è stato eliminato nel Q2 ed entrambe le Ferrari eliminate nel Q2, avevano comunque dimostrato un buon passo per poter entrare nel Q3 le Ferrari invece soprattutto Charles Leclerc è rimasto molto molto deluso dalle sue qualifiche, eliminato nel Q2, sapeva soprattutto poi col senno di poi vedendo cosa è successo in gara che avrebbe potuto nel Q3 conquistare una posizione molto molto migliore con la sua Ferrari quindi molta si è sentita molta molta rabbia da parte di Leclerc nel team radio alla chiusura del suo giro nel Q2. Partiamo nel Q3, Q3 che è partito con condizioni da full wet, una quantità di acqua veramente eccessiva per poter scendere in pista soprattutto con queste vetture di nuovissima generazione che con l'acqua fanno grandissima fatica a sviluppare downforce e soprattutto raggiungono velocità molto molto elevata, nei curvoni veloci di Spa questo è addirittura accentuato, Rouge Radillon è molto difficile da mantenere la vettura in linea e ciò lo si è visto subito nel primo giro con Norris che purtroppo ha perso la vettura in Rouge, non è riuscito a effettuare la giusta correzione, la vettura si è girata, bruttissimo botto per Lando Norris subito, si è vista la vettura che si è completamente distrutta e anche un po' di preoccupazione e subito qualcosa che mi va di rimarcare si è vista la grandissima umanità di Sebastian Vettel che si è subito lamentato per le condizioni meteo, sapeva che il meteo non era ideale per le vetture per poter scendere in quanto la visibilità era ridottissima, partiva subito dietro nel suo giro, partiva subito dietro Lando Norris appena sentito del botto, si è avvicinato Stilerton Senna a Spa nel, non ricordo l'anno scusate, nel momento non riesco a ricordare l'anno ma si è fermato accanto alla vettura di Norris per sincerarsi che fosse tutto a posto, è stato il primo appunto ad avere dati sensibili da parte di Lando Norris per capire che comunque non avesse subito danni da questo brutto botto in Rouge e Rarion. Mi va di sottolinearlo perché soprattutto in questa stagione Sebastian Vettel stava facendo notare dei, lo aveva già fatto in passato ma quest'anno, sta facendo notare dei lati di grandissima umanità dal punto di vista umanitario appunto dal punto di vista ambientale con ciò che ha fatto in quel di Silverstone. Bisogna far notare anche questi lati veramente positivi da parte di un pilota che è comunque prima di tutto un uomo. Detto questo, bandiera rossa naturalmente bisogna ripulire la pista che è strapiena di dietriti, si riparte per praticamente il secondo giro, soltanto il secondo giro con le gomme intermedie, con la pista che si è leggermente asciugata e qui assistiamo a uno show impareggiabile di George Russell che già ha fatto il solito miracolo ad entrare in Q3. Assoluto miracolo nel giro di George Russell che è riuscito a tirare fuori un giro incredibile in qualifica, mettersi dietro addirittura Lewis Hamilton con Mercedes. George Russell ricordiamo ancora con la Williams, quasi quasi pensava di guidare probabilmente una Mercedes e gli basta quello per fare un giro migliore di Lewis Hamilton. Davanti di cinque decimi solo nel primo settore rispetto al pilota britannico della Mercedes chiude il giro con un decimo di vantaggio su Lewis Hamilton. Proprio alla fine gli va a rubare la pole position, una pole position che avrebbe avuto qualcosa di leggendario se fosse andata in porto. Max Verstappen che chiude quindi una pole position rubando la George Russell con poco più di tre decimi di vantaggio appunto davanti al britannico della Williams, al britannico della Mercedes e poi un Daniel Ricciardo in quarta piazza che compie un grandissimo giro, grandissimo giro e questo poi gli servirà naturalmente nella domenica di gara visto tutto quello che è successo per confermare un gran risultato in questo Gran Premio di Spa. Ma andiamo alla gara, partenza prevista per le tre ma la pioggia è veramente tantissima, continua ad uscire la safety car per controllare se la pista sta avendo miglioramenti ma la visibilità continua ad essere veramente limitata e quando finalmente scendono i piloti in pista dietro la safety car di Bernd Mylander poi si sentirà nella post gara che non c'era visibilità praticamente a 100 metri, i piloti non vedevano la luce rossa che la flashing lights nel retro delle vetture a una distanza di 100 metri, ciò dimostra che comunque non era assolutamente possibile gareggiare in condizioni di assoluta sicurezza. Pertanto dopo quattro ore alle sette esce la safety car con dietro i piloti, due giri dietro la safety car e poi si rientra, gara definitivamente sospesa e la direzione di gara grazie a questi due giri ha fatto effettuare questi due giri per poter garantire punteggio di mezzato ai piloti. Si chiude così la gara? Si può dire che sia stata una farsa perché per quanto mi riguarda si sarebbe potuto semplicemente cancellare la gara. Hanno voluto effettuare così, non possiamo essere, avranno avuto le loro ragioni per poter portare la gara così però è stata un'offesa nei confronti dei tifosi. Vedere una gara di due giri dietro la safety car, gara dietro la safety car che comunque porta George Russell soprattutto per la prima volta sul podio della Formula 1 con la Williams dopo se non sbaglio ben sette anni perché se non sbaglio ultimo podio targato Williams 2014 con Valtteri Bottas presuppongo. George Russell che riporta grazie al suo grandissimo giro la Williams sul podio con un ottimo secondo posto. Vince quindi Max Verstappen davanti a Russell e Hamilton. Max Verstappen che accorcia di cinque punti il distacco da Lewis Hamilton. Andiamo a vedere naturalmente le classifiche aggiornate con driver standings. Lewis Hamilton che è ancora in prima posizione ma solo tre punti di vantaggio su Max Verstappen. Lewis Hamilton 202.5 davanti a Max Verstappen 199.5. Lando Norris che rimane in terza piazza con 113 nonostante non abbia acquisito punti però anche Valtteri Bottas non ha acquisito punti 108 punti per lui e Sergio Perez rimane in quinta 104. Ricordiamo Sergio Perez che ha effettuato un errore gigantesco nella sua uscita in pista prima della gara è andato a sbattere e grazie continui ritardi e comunque la sua la sua scuderia è riuscito a rimetterli a posto la vettura perché aveva distrutto l'anteriore è riuscito a metterli a posto la vettura a farlo scendere in pista però doveva partire dalla pit lane quindi P20 non essendosi svolta la gara purtroppo Sergio Perez ha terminato la gara in P20 quindi terza quarta e quinta posizione che non hanno visto spostamenti nella loro classifica. Carlos Sainz che invece chiudendo in decima ha preso mezzo punto è salito 83.5 però è comunque lontano dalla lotta per il terzo posto nella classifica piloti. Charles Leclerc che accorcia grazie al suo ottavo posto finale a un punto e mezzo di distanza dal suo compagno di squadra accorcia Daniel Ricciardo che è in ottava posizione a quota 56. Pierre Gasly in nona 54. Esteban Ocon che è in decima 42 davanti al compagno di squadra Fernando Alonso a 38. Poi abbiamo Sebastian Vettelin in dodicesima 35 e via via tutti gli altri. Per quanto riguarda invece la classifica costruttori abbiamo la Mercedes che vede comunque accorciarsi il distacco da Red Bull Racing in quanto Verstappen ha guadagnato questi 5 punti su Mercedes. Né Perez né Bottas hanno acquisito punti. Peccato per il botto di Perez perché avrebbe potuto acquisire punti molto importanti per la Red Bull per essere ancora più vicini mentre sono 7 i punti di distacco tra le due scuderie in lotta per la prima piazza costruttori con McLaren che invece grazie al posizionamento di Ricciardo in quarta piazza allunga di nuovo su Ferrari più 4 169 a 165 con Alpine in quinta posizione 80, Alfa Tauri in sesta 72, Aston Martin 53 in settima, Williams in ottava posizione con ben 20 punti. Ora si è praticamente aggiudicata l'ottava piazza. Non credo che l'Alfa Romeo possa raggiungerli solo a quota 3 a meno 17. Ass naturalmente che si pronuncia ultima con 0 punti. Detto questo ragazzi ho già detto quello che penso. Probabilmente non c'era bisogno del cambio regolamentare perché la Formula 1 sta diventando veramente super imprevedibile grazie al meteo o grazie a tutto ciò che può succedere però stiamo vedendo vincitori o podi incredibili che qualche anno fa direi non si vedevano. Anche gli anni in cui lottavano Ferrari e Mercedes qualche volta Red Bull ma non c'erano altre scuderie. Invece addirittura vediamo una Williams sul podio. Sta succedendo veramente di tutto. Speriamo che nonostante i cambi regolamentari nel 2022 si possa continuare a vedere una Formula 1 di questo stampo. Questa è stata una farsa è vero. Non è stata la gara che ci aspettiamo. Abbiamo visto meme di tutti i tipi in internet dopo questa gara con Bernd Milander, Driver of the Day, il giro veloce addirittura di Nikita Mazepin dietro la safety car. Però anche questo è Formula 1 probabilmente. Sta diventando anche questo. Molto social, molto presa in giro. È stato un punto a sfavore della Formula 1. Non sicuramente ai livelli di Indianapolis 2005 ma è stato un punto a grosso sfavore della Formula 1 però stiamo vedendo grandissimi colpi di scena. E vedere George Russell sul podio è un grandissimo colpo di scena perché meritava comunque questo podio dopo la qualifica straordinaria che ha fatto nel giro di ieri. Fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate voi. Lasciate un like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati su nuovi contenuti. Iscrivetevi al mio canale Instagram per tutti gli aggiornamenti riguardo a questo canale. Detto questo ragazzi vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento al prossimo episodio di iPhone Analysis. Ci vediamo alla prossima. Buona, buona, buon, on, buon, on. Buon proseguimento. Ciao ragazzi!